Salve a tutti, io sono Thomas della concessionaria.auto. Oggi proseguiamo con la presentazione del marchio 100. Ecco a voi il nuovo PICAPE! Nuovo Logistar 200, ci carichi tutto, tutto, ma proprio tutto! Con i suoi 11 ventali di portata utile, Logistar 200 è abile e compatto e promosso a pieni voti anche nelle strade più strette. Lo carichi in meno di 45 minuti con la ricarica fast, il tempo di una pausa franzo, oppure comodamente alla presa domestica e poi riparti per altri 264 km. Logistar 200 gode dell'eco bonus. Vieni a scoprire la gamma centro da punto auto. Trovi tutti i nostri riferimenti sul sito punto auto.net oppure qui sotto in didascalia. Logistar 200, per i carichi di tutti i giorni! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!